Siamo con il dottor Leopardi oggi alla presentazione della nuova edizione di farmacista più che si terrà dal 7 al 9 novembre ecco che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Sicuramente uno scatolite di idee nuove per la farmacia del domani e per la professione del farmacista del domani che è una professione sempre in continua adattamento a quelle che sono le esigenze dei cittadini a quelle che sono le richieste del del governo adattamento che viene fuori attraverso la formazione e che noi dobbiamo indirizzare verso tutte le idee che scaturiranno dalla sessione plenaria e dalle sessioni delle varie associazioni che è il momento più importante in cui ogni associazione potrà portare le sue istanze e rappresentanti di categoria in modo da farle tradurre poi in realtà in applicazioni concrete nel nostro mondo professionale.